Ecco, prendi il piatto sporco, mettilo sotto l'acqua e strofina forte con lo spazzolino. Caterina strofina forte con lo spazzolino. Ancora Caterina. Era il 1980 e io e Caterina, l'esilarante film di Alberto Sordi alle prese con una robotica governante, sembrava pura fantascienza. Ma vi possiamo assicurare che ai nostri giorni, in alcuni casi, come sempre avviene, la realtà supera la fantasia. Le macchine sono presenti in ogni settore della nostra vita privata e professionale e i robot, governati da intelligenze artificiali, sono più presenti di quanto possiamo immaginare, anche in un settore come quello dell'enogastronomia, dove sì, vigna e campo sono ancora l'essenza, ma in aiuto del uomo le macchine sono diventate ormai le vere protagoniste. Di questo rapporto così stretto si parlerà nella due giorni di Una città da gustare, il 28 e 29 ottobre. La tecnologia supporta non solo l'uomo nei lavori di fabbricazione, di produzione e anche negli atti amministrativi, ma supporta a pieno titolo anche l'enogastronomia, che è il tema di oggi. Infatti noi possiamo vedere che la tecnologia è presente in tutti i settori della filiera produttiva, a partire dalla semina del prodotto agroalimentare, alla trasformazione, fino ad arrivare al cibo nelle nostre tavole. Conferenze, dibattiti e approfondimenti con i più esperti in materia di cibo e tecnologie, per approfondire questo rapporto tra uomo e macchina, tra cibo e tecnologia, con un programma di grande spessore. Le macchine, e le macchine che in un modo sempre più invasivo entrano nelle cucine, entrano in quelli che sono tutti gli eventi del nostro vissuto quotidiano, vanno capite, perché se le capiamo, se le conosciamo, ovviamente le possiamo usare per stare meglio. Tutto questo è una due giorni per capire come si possono conoscere queste macchine, per imparare a usarle e perché anche in cucina diventino dei buoni strumenti per stare meglio. Conferenze, dibattiti e approfondimenti con i più esperti in materia di cibo e tecnologie, per approfondire questo rapporto tra uomo e macchina, con un programma di grande spessore. Abbiamo pensato a questi due giorni di studio sull'enogastronomia, assolutamente non pensando a ripetere un'ennesima fiera o una rassegna enogastronomica, ma riflettere insieme sulle problematiche dell'enogastronomia, dell'alimentazione, del cibo, quando questo a volte è anche esagerato, è anche sprecato, come ci racconterà per esempio un grande professore sostenitore dello Specco Zero, che è Andrea Segre, che sarà con noi sabato sera, 29 ottobre. E poi voglio ricordare, e questo secondo me è un momento al quale sarei felice che partecipassi alla cittadinanza, perché le penne in piazza sono venerdì 28 ottobre, e gli chef che al mattino partecipano a questo incontro, al pomeriggio in piazza Andrea Costa proporranno un piatto di penne alla matriciana di mare, cioè i calamari che sostituiscono la pancetta, e quindi la cittadinanza è invitata con un bicchiere di buon bianchello a festeggiare insieme questa giornata degli chef.